amici tra di meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vedrà tornare protagonista al maltempo al nord per colpa di questo centro di bassa pressione che regolerà il tempo sull'Italia anche poi nella giornata di domenica ora entriamo nel dettaglio e vediamo intanto la nuvolosità che torna ad aumentare nelle regioni settentrionali e sul medio alto tirreno e saranno queste zone che vedranno già anche le prime gocce di pioggia infatti guardate precipitazioni in graduale estensione alle regioni settentrionali a partire da quelle di nord ovest con anche il torno della neve in montagna ma a quote medio alte le piogge per il momento al nord comunque non saranno particolarmente intense sarà peggio la giornata di domenica vi anticipo quindi in definitiva ancora bel tempo in gran parte del sud sulle isole maggiori e su versanti adriatici invece come dicevamo tornano nuvole e piogge al nord e sull'alto tirreno con i fenomeni un po' più intensi e insistenti al nord ovest con questo è tutto per dettagli di aspetto come sempre su 3bmeter.com che cosa vuole la vela che cosa vuole la vela che cosa vuole la vela si 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 che cosa vuole la vela